Banca Popolare di Marostica, una scelta vincente, semplice, affidabile, competitiva. Martedì 28 gennaio, Santo Maso d'Aquino, è il 28esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 337 al termine, il sole sorge alle 7.36 e tramonta alle 17.12, la luna si leva alle 5.07 e tramonta alle 14.39. Con l'impegno di pagare 10.000 fiorini l'anno per 50 anni ai Visconti, signori di Milano, Padova ritorna in possesso dei Carraresi con il beneplacito dei veneziani. Infatti il successivo 24 novembre Francesco Novello da Carrara viene addirittura iscritto nella nobiltà veneziana. Le previsioni per domani, inizialmente parzialmente nuvoloso in seguito a graduale aumento della nuvolosità. Precipitazioni, fino a metà giornata in prevalenza assenti, in seguito probabilità in aumento fino a medio alta dalla sera di precipitazioni diffuse a partire dai settori sud-occidentali. Nevicate fino a quote basse, possibili a tratti anche su alcune zone della pianura. Temperature, in calo con valori minimi, prossimi o inferiori allo zero anche in pianura. A presto.